Serie D, domani in campo per le semifinali playoff del Girone F. Scatta la caccia a un posto privilegiato nella corsa alla Serie C, passando da eventuali ripescaggi. L'Aquila inizia in casa al Gran Sasso d'Italia contro il Roma City, seconda in classifica contro quinta, fischio d'inizio alle ore 16, previsto un altro pienone allo stadio del capoluogo abruzzese. Intanto si lavora già la nuova stagione, sicuramente ci saranno nuovi ingressi in società e uno dei nomi trapelati è quello dell'ex presidente del Teramo, Luciano Campitelli. Possibile è anche l'arrivo di un nuovo DS, Ciccio Micciola, ex San Nicolò, ma soprattutto Matelica e Ancona, in pole position per il ruolo. L'Avezzano ha annunciato in questi giorni il nuovo direttore generale e Maurizio Manfra, ex Viterbese e Roma City, già al lavoro in terra marsicana. La squadra di Pagliarini inizierà al Dei Marsi il cammino playoff contro la Samb, terza contro quarta, inizio alle ore 17 per permettere alla Carovana Rosa di lasciare la città marsicana, doppio risultato a favore dei biancoverdi. Nei playoff di Serie B le squadre meglio classificate al termine della regular season giocano in casa e hanno due risultati su tre a favore, ma non al novantesimo. In caso di parità nei tempi regolamentari, infatti, si giocheranno i tempi supplementari. Se la parità dovesse persistere anche al centoventesimo, passerebbe allora la squadra meglio piazzata in classifica. L'Aquile-Avezzano hanno quindi due risultati su tre a favore in semifinale. I rosso-blu avrebbero il vantaggio anche in caso di disputa della finale, in programma domenica 19 maggio alle ore 16. I playoff terminano con la fase a gironi. Le nove vincenti dei rispettivi gruppi dei playoff comporranno la graduatoria per i possibili ripescaggi, che nel punteggio tiene conto di molteplici fattori come settore giovanile, stadio, storia del club e bacino d'utenza. Tutte voci che vedono sia l'Aquila che Avezzano in primissima fascia, ma prima le squadre di Cappellacce e Pagliarini dovranno provare a vincere gli spareggi.